Ben trovati, inizia una nuova stagione dell'ospite, trasmissione che ormai da anni fa parte del palinzesto della nostra emittente che avevamo interrotto sostanzialmente nella scorsa primavera nel pieno di quella che è stata l'emergenza sanitaria alla quale ci siamo tutti trovati impreparati, non riuscivamo neanche a reperire ai minimi dispositivi di protezione individuale insomma per una serie di circostanze allora avevamo interrotto. Riprendiamo ora in autunno, sicuramente la situazione non è migliorata anzi, però abbiamo maggiore consapevolezza di quello che dobbiamo affrontare, ancora ci aspettano mesi difficili ci è stato detto da tutti, dobbiamo convivere con questo virus e quindi anche noi vogliamo dare il segnale riprendendo tutte le nostre produzioni perché al di là dell'informazione quotidiana legata ai telegiornali al nostro sito internet riteniamo importanti anche questi momenti di approfondimento. Fatta questa premessa vi presento subito il protagonista di questa prima puntata, ormai una tradizione iniziamo con il sindaco di Sciacca Francesca Valenti. Ammetto subito che quando la scorsa settimana l'ho chiamata per concordare di vederci il mio pensiero era quello di parlare sostanzialmente dell'emergenza sanitaria, di come abbiamo gestito il covid, di come lo stiamo gestendo, di come ci prepariamo ad affrontare mesi difficili e però la politica locale non si fa mancare mai niente. In una settimana diciamo che è successo di tutto. Allora provo a sintetizzare a beneficio di chi non segue magari le vicende politiche. C'è un consiglio comunale che ha bocciato il consuntivo 2019 decretando di fatto lo scioglimento, avviando le procedure per lo scioglimento così come prevede una normativa regionale, in realtà poi una circolare, però così è previsto. Subito dopo è stata presentata una seconda mozione di sfiducia. Procediamo per gradi. Intanto le chiedo un commento sulla bocciatura del consuntivo. Lei se lo aspettava un atto forte? Mai successo a Sciacca? Penso che non se lo aspettassero neanche loro, devo dire la verità, perché il consuntivo è stato bocciato come atto politico. Il rendiconte è un atto tecnico, un atto tecnico che non presentava nessun problema tecnico, tanto è vero che aveva il parere del revisore dei conti e tanto è vero che il commissario d'acta lo ha approvato immediatamente, già l'indomani mattina. Quindi una scelta politica, un atto politico che va preso come atto politico. Quindi non è tanto il rendiconto quello che è stato bocciato, quella è stata un'occasione per decidere, i consiglieri, la maggioranza dei consiglieri ha deciso in questo modo di tornare a casa. Un atto forte, lo ammette lei stessa, non era mai successo e l'atto forte, almeno questa è stata la valutazione da parte di chi lo ha compiuto, perché era così che andava, nel senso che c'era uno scontro politico, inutile negarlo, che proseguiva da tre anni e mezzo, che ha visto anche la presentazione di una prima mozione di sfiducia a inizio anno, dei rapporti che non si è riusciti mai a mantenere quella che era la normale dialettica politica, si è andati anche oltre fino ad arrivare a questo punto. Le chiedo, è un atto politico, ma lei ritiene che questa norma sia giusta? Cioè che se io sono all'opposizione di un'amministrazione e non condivido l'operato, avrò anche il diritto di esprimere un voto contrario, però questo mi implica lo scioglimento. No, sul fatto se la norma sia giusta o meno, io non entro. Non glielo chiedo perché molti sindaci, molti consiglieri hanno sollevato la questione Sicilia. Sì, ma dura l'ex sed l'ex, questo è, e quindi non possiamo discutere sul fatto che una norma piuttosto che un'altra possa essere considerata giusta, è una norma e va applicata per quello che è. Quello che invece io mi permetto di dire è che a mio avviso, se devo esprimere un'opinione personale al riguardo, io credo che veramente sia un atto di grandissime responsabilità, perché ha ragione quando dice noi dovevamo parlare dell'emergenza Covid, adesso è un'occasione per parlare di un altro problema politico che in questo momento la città. Però è un momento completamente sbagliato per fare una cosa del genere, perché noi siamo dentro un problema enorme, mai visto, e quindi in questo momento un atto politico di questo tipo, secondo me, è veramente un atto dai responsabili, per me è dai responsabili. Un atto che tra l'altro apre scenari tutti da verificare, nel senso che gli stessi consiglieri, parte dei consiglieri che hanno bocciato il consuntivo, hanno già chiesto la convocazione di un consiglio comunale, hanno inoltrato anche una diffida, una sollecitazione, chiamiamola anche così, al presidente del consiglio comunale, evidentemente ritengono che ancora non si sia generata quella sospensione che pure la legge prevede. Lei a proposito cosa pensa invece? Questo consiglio comunale si può riunire o non si può riunire? A mio avviso il consiglio comunale è sospeso e i consiglieri sono sospesi, ma anche lì hanno commesso un errore, ma adesso è, cioè perseverare nell'errore è veramente a questo punto incredibile. Lei si riferisce alla presentazione della mozione di sfidenza? Ma certo, perché lasciamo perdere il dato giuridico, perché io ho la mia convinzione, che non è soltanto la mia come lei immagina, per cui il consiglio comunale è già sospeso, in ogni caso non può deliberare una mozione di sfiducia. Ma se i consiglieri avessero voluto sfiduciare il sindaco e determinare un'assenza di un governo alla città avrebbero dovuto fare diversamente, approvavano il rendiconto e l'indomani presentavano una mozione di sfiducia. Votavano la mozione di sfiducia e ce ne saremmo andati tutti a casa, lasciando il comune e la città abbandonati. Perché abbandonati? Sotto la guida di un commissario. Sotto la guida di un commissario in un momento covid, per cui diciamo che sarebbe stato, sarebbe una cosa perfetta. Io soltanto ieri in un commento al vostro TG ho detto forse nel periodo del lockdown questi stessi consiglieri comunali non hanno capito nulla di quello che è successo. Perché io ho passato quei mesi sempre fuori, ricevevo telefonate 24 ore su 24 da parte di famiglie disperate, di persone che avevano bisogno, di un soggetto covid che aveva bisogno di una bombola d'ossigeno piuttosto che la famiglia che non aveva il latte per il bambino. Di fronte ad un'emergenza sociale, tutto questo ci hanno pensato, ci stanno pensando che siamo in un momento completamente pazzo. Senta, quindi lei ritiene che non ci siano proprio i presupposti per poter convocare questo consiglio comunale? Però le chiedo, il rischio al quale noi andiamo incontro come città non è quello, nell'uno o nell'altro caso, di una serie di ricorsi, di contenziosi, di interpretazioni di legge, perché poi lei lo sa, in Italia e in Sicilia ancora di più ogni legge, ogni norma, ognuno la interpreta come meglio crede. Allora mi chiedo, magari il consiglio comunale non viene convocato e i consiglieri faranno ricorso, viene convocato, mettiamo, stiamo facendo fantapolitica chiaramente, viene approvata la mozione di sfiducia e a quel punto non penso che lei starebbe con le mani in mano, no? No, assolutamente, ma per rispetto della legge, non per una per una. Quindi in ogni caso c'abbiamo una stagione di ricorsi, di carte bollate, come si chiamano in gergo? Ma questo è altro. La città, alla città, secondo me, non interessa. La gente, loro parlano sempre di gente, questi consiglieri di opposizione dicono sempre, parlano in nome per conto della gente. Verosimilmente incontriamo gente diversa, perché anche io incontro la gente, anche con me parla la gente, ma in questo momento alla gente, ai nostri cittadini, interessa tutto questo problema politico? Interessa veramente il problema politico? Quando noi abbiamo avuto solo domenica un problema evidente di disagio da parte degli operatori, abbiamo di nuovo un problema sanitario e quindi i rapporti con l'ospedale, capire cosa si fa col nostro ospedale a tutela della salute. Ma lasciando perdere il Covid, vogliamo parlare di altro? Questi stessi consiglieri sono quelli che hanno ritenuto di non approvare lo statuto dell'azienda speciale consortile. Sono gli stessi consiglieri che hanno ritenuto di fermarsi per riflettere sulla gestione pubblica dell'acqua pubblica. Adesso cosa succede? È un consiglio comunale che comunque ha sempre fatto solo opposizione sterile? No, non lo dico, io non penso che abbia fatto solo opposizione sterile perché poi è il gioco delle parti e io capisco anche la loro posizione, ma è il momento. Cioè arrivare a questo gesto, dice lei, forte non era sicuramente in quel momento. Cosa facciamo con l'acqua? Un commissario dovrebbe decidere delle sorti dell'acqua pubblica per il comune di Sciacca? Dovrebbe decidere cosa, come e perché deve gestire l'acqua pubblica nel comune di Sciacca? Oppure pensano che in ogni caso il commissario aspetterebbe la campagna elettorale del nuovo sindaco? No, perché entro l'anno tutto questo va risolto? Lasciamo perdere poi il discorso terme, sempre entro l'anno si dice che deve essere fatto il bando, quindi loro hanno abbandonato la città proprio in un momento in cui ci sono problemi enormi in questa città che vanno affrontati e che vanno risolti. Senta, ma giro la questione, faccio l'avvocato del diavolo, mi sembra anche giusto visto che non ci sono quantomeno, ma per arrivare a un gesto così forte, per sciogliere se stesso, praticamente mandarsi a casa da solo, non pensa che ritenessero che i rapporti, che non ci fossero proprio più i presupposti anche per continuare ad operare all'interno di questo Consiglio Comunale. L'accusa è sempre stata, non c'è mai stato dialogo, questa amministrazione solo a parole ha cercato la nostra collaborazione, per non dire poi che non stiamo parlando solo di un'opposizione di centrodestra, il cui ruolo ci sta, che è quello di fare opposizione. In tutto questo ci sono parti della maggioranza che hanno contribuito alla sua elezione e che nel tempo invece hanno fatto scelte diverse. In sintesi le chiedo, quando le cose non vanno la colpa non sta mai solo da un lato, lei anche a fronte di una seconda mozione sfiducia, che cosa si sente di rimproverarsi se sente di rimproverarsi qualcosa? Sì, ma l'ho fatto anche in quel Consiglio Comunale, il mio intervento in quel Consiglio Comunale è stato proprio questo, è stato faccio mea colpa, io non sono certamente brava, non sono brava a tenere i rapporti politici, ad intessere questi rapporti. Io certamente sono una neofita dal punto di vista politico, quindi queste regole strettamente politiche che mi vengono richiamate, che mi sono state spesso richiamate, probabilmente non le conosco, alcune devo dire non le condivido, quindi volutamente non le tengo conto perché non le condivido. Sono una persona molto schiva, non cerca la visibilità, non ama, quindi certamente la mancanza di, diciamo, di apertura che loro lamentano, io me ne sento responsabile, perché verosimilmente non volendo, ma questa è stata la sensazione, questo è stato quello che loro hanno visto e questo l'ho anche detto in questo Consiglio, nell'ultimo Consiglio Comunale, certamente non c'è dubbio che la verità stia sempre nel mezzo e che le responsabilità non siano solo da una parte, sicuramente, sicuramente sì, però secondo me c'è sempre un però. Non si doveva arrivare a questo punto. No, nel senso che a tutto c'è comunque una ricerca di un modo per risolvere il problema e provare ad andare avanti, nell'interesse del bene comune che è di tutti quanti, io credo che venga prima rispetto alla contrapposizione politica, rispetto alla dialettica strettamente politica. Io purtroppo questo lo metto sbagliando, ma lo metto in secondo piano, perché secondo me prima c'è altro e oggi come oggi, prima c'è sicuramente altro. Le chiedo anche, perché se ne è parlato, si è detto a un Consiglio Comunale, letto in maniera democratica, che rappresenta tutta la città, quindi non soltanto la coalizione che governa, ma anche l'opposizione che va a casa e un'amministrazione che rimane, una sorta di ingiustizia è stata paventata, sempre legata alla famosa norma, tanto che qualcuno ha detto che il sindaco dovrebbe dimettersi. No, cioè se loro si sono, volutamente, hanno abbandonato tutto, io certamente non abbandonerò la città, non l'abbandono, non l'abbandono perché ritengo che in questo momento non vada abbandonata e nonostante non si profilino delle cose, cioè il nostro futuro prossimo non è certamente roseo, non lo è, potrebbe essere anche più comodo per me, nel senso che a questo punto io mi dimetto, me ne vado, verrà un commissario, periodo Covid, non verrà un commissario, quindi da Palermo verosimilmente gestirà gli affari di Sciacca, nessuno si occuperà di quello che riguarda l'emergenza sanitaria, l'emergenza sociale, l'emergenza economica, le scelte sulla gestione dell'acqua verranno prese dal commissario, così come il bando per le terme sarà un discorso solo della regione, potrebbe essere tutto sommato comodo perché non è un momento facile per niente, cioè non è un momento di gloria per cui dice, sì vabbè, tu stai lì perché non so cosa raccogli, è un momento difficilissimo, ma proprio nel momento difficilissimo bisogna restare, restare sul fronte e io non intendo abbandonare il fronte in un momento in cui la città è in un'evidente difficoltà, in un'enorme difficoltà, sotto tanti profili, a iniziare dal Covid ma non solo, ci sono cose che scadono nei prossimi mesi che riguardano questa città, cose fondamentali per questa città e io credo che non debba essere un commissario ad occuparsene, perché questo non sarebbe un bene per la città dal mio punto di vista. Le chiedo in ultimo e poi cambiamo argomento perché ci sono tante altre cose con le quali voglio confrontarmi con lei. Come finirà? Cioè qua è scattata anche la corsa, la chiamata all'assessorato regionale degli enti locali per capire perché alcuni hanno anche detto, sì in realtà il commissario ha approvato il consuntivo, ha comunicato tutto alla regione, c'è un articolo, un comma che dice che da quel momento già il consiglio è sospeso, subito dopo ce n'è un altro però che dice sì ma la sospensione viene decretata dall'assessore e quindi si tira in causa l'assessorato agli enti locali. Penso che un po' da ambo le parti siano partite delle richieste che abbiamo le dichiarimento così. Lei come la vede? Come finirà? Cioè conosciamo da questo anche sorta di equivoco in cui si dice tutto e il contrario di tutto. Beh io non posso credere che l'assessorato si esima o ritardi un atto dovuto per legge perché come dice esattamente l'articolo 109 bis lasciamo perdere l'interpretazione del termine decretare perché anche io mi sono confrontata con i miei colleghi universitari, mi sono confrontata con gli avvocati amministrativisti. Devo dire la voce che io ho recepito è una voce univoca nel senso che il consiglio è sciolto già. Ma lasciamo perdere questo discorso. È evidente che l'assessore sia tenuto a fare un decreto. È un atto dovuto, non c'è alcuna discrezionalità. La norma dice senza contestazione di addebiti. Quindi non si apre una fase di istruttoria ma è semplicemente prendere atto di una decisione che i consiglieri hanno preso perché poi la scelta è dei consiglieri. Quindi non è che il problema lo pongono altri. E se questa firma dovesse tardare ad arrivare? Ma io non credo proprio che l'assessore, peraltro avvocato, si possa prestare ad un gioco, a mio avviso illegittimo, ma lasciando perdere il legittimo, un gioco che possa comunque mettere in discussione la linearità del suo operato. È un atto dovuto che per legge deve essere assunto immediatamente perché il consiglio è sospeso, che quindi qualcuno insista o probabilmente solleciti l'assessore a ritardare la firma. Ma sarebbe un atteggiamento, non vorrei dire illecito, però certamente poco opportuno, ma in ogni caso io non posso credere che l'assessore si presti a questa forma di politica di bassa lega. Io la definirei così. Chiudiamo questo capitolo. Tanto vedremo quello che succede nelle prossime settimane. Apriamo invece quello dell'emergenza Covid. Io ricordavo poco fa la primavera drammatica che abbiamo vissuto tutti nella nostra città, che è stata la prima della provincia di Agrigento di fatto a conoscere il Covid. È successo nuovamente in realtà anche in autunno, o anzi a fine estate in anticipo. Adesso la situazione mi pare che negli ultimi giorni si sia un tantino stabilizzata, nel senso che non abbiamo più quei contagi che crescevano di giorno in giorno, che abbiamo visto ad esempio settembre e primi di ottobre. Sì, adesso siamo ad oggi 41 casi positivi. Quindi ci manteniamo. Ci manteniamo. Tra l'altro siamo stati superati da altri comuni. Sì, da comuni più piccoli che invece sono in una situazione emergenziale maggiore. Anche lì adesso vedremo però nel momento in cui inizieranno i tamponi, questi gratuiti, la campagna di screening, vedremo che cosa succederà lì. Quello è un test di prova importante. Io le chiedo quando scatterà questa campagna. Ricordiamo che saranno tamponi fatti, gestiti da operatori sanitari, ma il Comune di Sciacca ha aderito alla campagna di screening nazionale? Regionale. È una campagna di screening regionale. L'assessore regionale ha messo a disposizione questi tamponi rapidi e anche il personale sanitario che li effettua. Quindi come Comune abbiamo aderito certamente perché è importante capirlo. Come si procederà? Adesso aspettiamo indicazioni dalla Regione. Noi individueremo i siti. E questi certamente, insomma, più di uno pensiamo in città. E previa prenotazione, la Regione pensa ad un'app, quindi previa prenotazione, chi vuole, tranne che anche lì non ci siano dei criteri prestabiliti che ci vengono forniti, ma altrimenti chi vuole può fare il tampone gratuitamente per verificare se è contagioso, è contagiato oppure no. Perché il vero problema sono gli asintomatici. Più tamponi e presumibilmente più persone che risulteranno positive. Però quanto è importante anche questo? È importantissimo questo. Capire qual è la reale situazione. Sì, perché capire la reale situazione è quella che ci dà il dato effettivo. Perché veda, fin tanto che non capiamo la reale situazione, è come se avessimo il fuoco che cova, ma non sappiamo cosa succederà e se questo fuoco divamperà. Infatti, invece, avere una situazione il più reale possibile ci permette anche di prepararci. Perché poi il vero problema è, da un lato vabbè la tenuta sociale ed economica, quello è un grande problema, ma il vero problema è la tenuta del sistema sanitario. Perché nonostante tutto quello che ci siamo detti negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ritenere che il nostro sistema sanitario sia pronto, no, io non posso dire una cosa del genere. È pronto nei limiti in cui ci siamo così. Perché noi, fino a qualche giorno fa, già i posti Covid sono tutti occupati. Anche così, noi in fondo siamo usciti da un'emergenza, quella della primavera, in cui l'ospedale di Sciacca fondamentalmente è stato in prima linea a gestire i ricoveri. Ci siamo ritrovati in autunno con l'identica situazione. È come se l'esperienza della primavera non avesse insegnato nulla. Allora le chiedo, anche in questo caso è scattato il balletto delle responsabilità tra Stato, Regione, direzioni dell'ASP. La situazione del nostro ospedale qual è? E lei come la sta fronteggiando? Io ho un contatto diretto, continuo e costante con i vertici dell'ASP perché cosa ci interessa, almeno dal mio punto di vista. Noi dobbiamo sapere cosa ci aspetta e dobbiamo anche capire, il paziente non Covid deve avere un ospedale pronto ad accoglierlo e curarlo. E questo è. Il paziente Covid deve avere un ospedale pronto ad accoglierlo e curarlo. Il paziente, il soggetto Covid non da ospedale, deve avere un posto dove può essere assistito. Questa è la mia preoccupazione perché ancora una volta l'ospedale di Sciacca è in prima linea perché l'ospedale di Sciacca è quello che subito ha messo a disposizione i posti Covid, che subito ha messo a disposizione la ferosteria per i soggetti Covid non pazienti, subito ha messo a disposizione la terapia intensiva, subintensiva e quant'altro. Ma gli altri ospedali della provincia stanno facendo la stessa cosa. Quello che io chiedo e mi permetto di pretendere è che la provincia sia trattata tutta allo stesso modo e che quindi al pari dell'ospedale di Sciacca anche le altre strutture siano immediatamente attivate, messe a disposizione. Questa tutela della salute di tutti, non soltanto dei nostri cittadini. In questa vicenda si è verificato in primavera e mi pare di capire che anche negli ultimi giorni sia tornata la questione, c'è stata anche una sorta di campanilismo di difesa ognuno del proprio ospedale. Lo abbiamo visto a partire già dalla giornata in cui nonostante il voto ad Agrigento c'è stata quella levata di scudi per i ricoveri che non si dovevano fare ad Agrigento e così ora ci sono anche discussioni a Ribera, seppure dicano noi il reparto Covid lo vogliamo ma vogliamo mantenere anche le altre cose, gli altri servizi che abbiamo. Sciacca che giustamente da tempo lamenta come il nostro ospedale. Un'azione comune da parte dei sindaci di Agrigento che sia finalizzata anche a capire poi quanti posti abbiamo e quanti ne abbiamo già pieni perché è questa la... Cioè al di là della lita che lascia il tempo che trova, c'è un sindaco e l'altro. Qua la preoccupazione del cittadino è ma se io domani ho bisogno, ho l'assistenza nel mio territorio? Sì ma infatti io la sposto proprio su questo profilo, questa è la domanda che noi ci facciamo. L'ospedale è un luogo sicuro, c'è stato assicurato e noi vogliamo credere. Io credo che l'ospedale sia un luogo sicuro, nei limiti in cui in questo momento tutto è sicuro e tutto non lo è. Lasciamo perdere che c'è pure il discorso aperto sulle scuole. Quello è un altro discorso. È un luogo sicuro. C'è stato assicurato, il paziente no Covid ha certamente le cure e l'assistenza che deve avere. Va bene, ma vogliamo esattamente capire perché anche il paziente no Covid non è soltanto il problema delle cure, c'è tanto altro. Serve personale all'ospedale di Sciacca. Serve personale, personale specializzato, ma serve anche il personale per assistere i pazienti perché altrimenti non c'è l'adeguata cura, ma cura come assistenza. Io l'ho lamentato qualche settimana fa e dicevo pure che è un'esperienza personale la mia perché certamente l'ospedale fa del tutto, i medici fanno del tutto, gli infermieri fanno del tutto, ma in questo periodo i familiari non possono prendere in carico il proprio parente per assisterlo, eccetera, si evidenziano ancora dei più limiti. Certo, loro stanno veramente, io guardo con grande abbinazione i medici, soprattutto i medici che veramente in questo momento sono sul fronte anche loro, il pronto soccorso, perché veramente lì arriva di tutto, deve essere gestito di tutto, non è semplice. Io devo dire che riconosco anche che il commissario stia facendo quanto può perché lo sta facendo. Come abbiamo scoperto che dopo mesi è passato tutto in estate e la struttura di Ribera non è stata minimamente attrezzata, eppure c'era anche un commissario covid nominato per gestire, la regione aveva investito su questa struttura, cioè a noi manca un ospedale al quale fare riferimento perché di fatto abbiamo riempito tutti gli altri. E quindi torno a chiederle, ma avete verificato i posti disponibili, come siamo messi per poter fronteggiare i prossimi mesi, perché la situazione sicuramente non andrà a migliorare. Anche su questo è un'opinione personale, io credo che i ritardi che certamente ci sono stati, perché sono sotto gli occhi di tutti. Questi ritardi ancora una volta dimostrino come spesso le contrapposizioni non aiutano, anzi creano soltanto enormi difficoltà, perché secondo me il ritardo a mio avviso è stato causato anche da contrapposizioni interne tra soggetti, tra commissari, secondo me è di peso molto da questo, in parte anche dal fatto che a mio avviso ci fosse un momento politicamente, c'erano elezioni, quindi un momento in cui anche politicamente non tutti si andava nello stesso senso. Quindi tutto questo è stato... E mancata anche da parte dei sindaci la sollecitazione poi alla regione a dire ma come ci stiamo organizzando. Quindi anche questo, no? Sì, certo, questo abbiamo avuto noi, devo dire, assicurazioni, io sono stata rassicurata per tanto tempo, che tutto era pronto e quindi comunque che tutto era di lì a poco, si sarebbe poi, quando già si è posto il problema ci siamo accorti che non era così. Adesso si fanno le corse, stanno facendo le corse, che ben venga, devono fare le corse. Senta, a proposito anche dei tamponi, oggi il sindaco di Sambuca di Sicilia ha evidenziato una situazione, cioè un ritardo nell'esito dei tamponi, che immagino non riguardi soltanto Sambuca di Sicilia, ma tutti i comuni della provincia. Cioè è possibile lasciare il cittadino in attesa dell'esito dieci giorni? Cioè finisce che, termina la quarantena e ancora non sa se è positivo o meno. Lei questa situazione l'ha appurata con i vertici dell'ASPE. Tra l'altro anche lì si era detto che il nostro ospedale doveva essere reso autonomo, doveva poter processare questi tamponi e quindi accelerare questo meccanismo. Anche da questo punto di vista nulla di fatto, mi pare di capire. Quando dicevo che servono le risorse faccio riferimento anche a questo, perché anche su questo io quotidianamente ci sentiamo con i dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, perché mi comunicano i guariti, mi comunicano i nuovi contagi, me lo anticipano con un WhatsApp e poi mi mandano la comunicazione. Quindi io su questo devo dire che non posso avanzare alcuna lamentela perché... La comunicazione lei dice funziona. Almeno per quello che mi riguarda funziona, perché mi comunicano veramente... Ma lei ha registrato pure questo ritardo nell'esito dei tamponi? Sì, ma è un ritardo dovuto alla mancanza di risorse sia umane che anche dal punto di vista proprio dei macchinari. Perché anche un Dipartimento di Prevenzione, dove ci sono soltanto pochi che devono gestire tutto, devono gestire i guariti, quelli in quarantena, quelli che sono contagiati, ovviamente cosa mi si dice? Noi intanto la prima cosa che dobbiamo fare è verificare i nuovi contagi, perché è l'emergenza. Allora la prima cosa che io faccio, mando al sindaco il nuovo contagio, perché quel soggetto va messo subito in quarantena. Questo magari porta a mettere dietro chi è guarito, chi aspetta l'esito del tampone negativo, che purtroppo però è costretto a stare a casa, e quando, capiamo bene, è una sorta di prigione a quel punto quasi intollerabile. Ma perché viene fatta la scelta di portare avanti prima il contagiato? Perché vuol dire che manca il personale, perché vuol dire che mancano le risorse per poter fare tutto. Anche il numero dei tamponi che giornalmente l'ASP comunica nel bollettino è sconcertante, cioè sono numeri ridicoli, posso dire ridicoli. Io ho letto l'altro giorno 56 tamponi, capisco che era domenica, ma 56 tamponi in una provincia ritengo che noi siamo proprio all'anno zero. Certo, rispetto ai mila tamponi che si fanno altrove. Quindi c'è il rischio che alla fine la realtà del contagio sia ben diversa da quella che certifica l'ASP, è ben più grave. Onestamente mi preoccupa di più, sì, è quello che mi preoccupa di più, perché, che so io, la stessa città di Palermo hanno iniziato questa campagna e hanno scoperto migliaia e migliaia di persone positive. E quindi quale sarà l'atteggiamento, quale saranno anche le iniziative che dovranno essere assunte nelle prossime settimane? Cioè si parla tanto in questi giorni di zone rosse, arancioni, verdi, e però quanto è difficile, lo chiedo a lei perché lei in primavera è stata tra i sindaci che ha chiuso tutto, cioè siamo stati tra i più chiusi a Sciacca, anche rispetto alla regione, al resto della nazione. Che cosa ci dobbiamo aspettare per questo inverno? No, io mi sono convinta di una cosa. Noi possiamo, faranno a livello nazionale, adesso aspettiamo un nuovo DPCM, quindi non so che decisioni intendano assumere, certamente restrittive. Il Presidente della Regione non so bene adesso cosa intenderà fare, ma io sono convinta di un'altra cosa in questo momento. Io sono convinta che gli unici, gli unici che possiamo in qualche modo gestire il nostro futuro siamo noi, perché se non c'è la consapevolezza non cambia niente. Cioè se è la consapevolezza non c'è inutile che mi chiudono alle 21 e io poi alle 14 faccio gli assembramenti ovunque. È inutile che mi chiude il ristorante alle 21 e io me ne vado al ristorante o comunque a pranzo, poi mi faccio i gruppi. In fondo questo scorso fine settimana anche nel nostro comune questo un po' ci ha fatto vedere. E però sindaco, la gente dice che gli viene permesso, gli viene permesso perché un altro problema è poi quello dei controlli. È facile fare le ordinanze DPCM, poi alla fine chi deve controllare? Ma deve con le forze dell'ordine. Noi come comune mettiamo a disposizione la polizia municipale, ma quella polizia municipale noi conosciamo, non è i limiti che ha, ma tra l'altro una polizia municipale che è chiamata a fare tante cose. Perché tanto per cominciare, la notifica ai soggetti positivi della loro positività viene fatta dalla polizia municipale. La notifica ai soggetti guariti del fatto di essere guariti viene fatta dalla polizia municipale. Quindi devo dire, quando abbiamo la scuola e mandiamo la polizia municipale, devo dire che veramente vengono inviati ovunque, ma soprattutto le forze dell'ordine hanno questo compito. Lei aveva detto se chi ma ne fa, io invoco anche l'intervento dell'esercito, che verrà anche questo, se è necessario, cioè è necessario questo, sarà necessario questo? Io mi auguro di no. Io mi auguro di no. Io continuo a confidare sul fatto che ciascuno di noi si renda veramente conto, che c'è da avere paura sul serio. Che c'è da fare sacrifici. In fondo il sacrificio di limitare tante delle nostre azioni, delle nostre iniziative quotidiane può essere fatto, in fondo. Rispetto invece al dramma che sta vivendo, perché accanto all'emergenza sanitaria c'è un'emergenza che è legata all'economia, alle difficoltà di tante attività, lo abbiamo visto anche a Sciacca, seppure noi non amiamo partecipare alle manifestazioni di un certo tipo, di un certo spessore, mi piace dire, no? L'abbiamo visto con l'Etermo, l'abbiamo visto con tante altre cose. Anche domenica scorsa in fondo la partecipazione doveva essere diversa, che poi è un segnale che si dà, a mio avviso, di un comparto che sta soffrendo. Capisco che un'amministrazione può fare ben poco, con limiti di bilancio e tutto, però una delle critiche che le è stata anche mosse è questa di essere stata molto timida e poco intraprendente anche nel sostenere con misure varie l'economia locale di fronte all'emergenza che abbiamo vissuto. Si è eccitato, altri comuni hanno dato contributi, hanno comunque sgravato di più, hanno fatto tanto, Sciacca non è stato fatto niente. Non sono d'accordo, non sono d'accordo, perché l'unica cosa che non ha fatto Sciacca, a differenza di altri, di qualche altro comune, è che qualche altro comune simbolicamente ha dato qualcosa, ha in qualche modo dato un sostegno economico, dico simbolico perché secondo me è simbolico. Questa è l'unica cosa che non ha fatto il comune di Sciacca, perché il comune di Sciacca tutti gli sgravi possibili e immaginabili li ha comunque fatti, tutti, anche oltre quello che era previsto per legge. La possibilità di dare un sostegno economico non è una scelta amministrativa, perché la possibilità di dare un sostegno economico non ce l'ha il comune di Sciacca, non ce l'ha proprio, non ha le risorse per farlo, quindi si è fatto altro, si sono fatte le campagne di sensibilizzazione, si sono fatte le raccolte per poter sollecitare e venire incontro alle esigenze delle persone in una situazione di bisogno. Si sostiene ancora oggi, io sto provando in tutti i modi a tenere ferme le luci accese su alcuni comparti che sembrano dimenticati, come gli stagionati per esempio, che non sono stati adeguatamente tutelati e che ancora oggi non lo sono, come tutti coloro che orbitano nel mondo dello sport. Io sono molto preoccupata, io per esempio non sono d'accordo con il lockdown. Sulla chiusura delle palestre. Sì, ma non sono d'accordo neanche su una ipotetica chiusura delle attività, ma perché se ci hanno impartito linee guida, linee guida rispettate le quali... Ma c'è stato detto tra l'altro che dobbiamo convivere con questo virus rispettando una serie di misure. Giusto, se c'è stato detto che rispettando le linee guida la situazione sarebbe stata di sicurezza, allora a questo punto non mi puoi chiudere. Siamo di nuovo al discorso che facevamo prima, dobbiamo avere il controllo a che le linee guida siano rispettate, ma a quel punto non mi puoi impedire, non mi puoi chiudere, perché altrimenti oltre al danno la beffa. Ma la chiusura arriva nel momento in cui ci si rende conto che gli ospedali sono ormai al limite. Non certo per i numeri del contagio, diciamolo francamente. Sì, il problema è questo, che non tiene il sistema sanitario. Siccome non tiene il sistema sanitario ci dobbiamo adeguare. Devo dire che effettivamente in alcune, in particolare in regioni d'Italia, la situazione è insostenibile. E se noi parliamo così, io stessa parlo così, è probabilmente perché la nostra situazione ancora è più per fortuna. E speriamo che sia così, non è come altre, perché altrimenti ci rendiamo tutti conto che di fronte all'emergenza, che sia veramente emergenza, a quel punto non tiene più nulla. E infatti quella poi diventa la misura purtroppo da adottare. Parlavamo di situazioni economiche e le chiedo, ma il bilancio? Siamo ormai a novembre, io le ricordo che lei sosteneva che il bilancio mai più sarebbe stato approvato a fine anno, in ritardo, eccetera. E però succede così ogni anno. Sì, quest'anno poi in particolar modo. Peraltro quest'anno siamo moltissimo in ritardo, ma guarda caso non tanto in ritardo, perché... Vabbè, stanno intervengono proroghe. Esattamente. Perché la scadenza del bilancio era legata al 31 ottobre, però il fatto che ci siano queste proroghe legislative è l'indice dell'estrema difficoltà che non ha il Comune di Sciacca, ma che verosimilmente ha tutta l'Italia. Altrimenti per noi non avrebbero prorogato certamente. Quindi avrebbero commissariato. No, il commissario forse non c'era per il consultivo, ma per il bilancio potrebbe arrivare. No, glielo chiedevo del bilancio più che altro per affrontare un'altra situazione ben più seria, ben più grave. Quella della Casalbergo per Anziani di Contrada Perriera è la revoca di un finanziamento. Che notizie abbiamo? Lei ha subito affrontato la questione, ha avuto diverse interlocuzioni pure con i funzionari e dell'assessorato competente. Che novità abbiamo? Questi 3 milioni e mezzo di euro, se li dobbiamo restituire, è un problema no serio di più. Io non credo che noi li dobbiamo restituire, secondo me, in questo procedimento di revoca. Ci sono diversi vizi, se così vogliamo dirli, tecnicamente. Quindi, per quello che mi riguarda, noi stiamo facendo tutto per far cambiare idea all'assessorato e, in ogni caso, per resistere davanti ad un giudice e per fare in modo che il Comune non debba restituire queste somme. Non è così scontato come qualcuno anche racconta, perché io spesso ho sentito, cioè come se già fosse definitivo, cioè noi parliamo, sento parlare spesso, la revoca del finanziamento il Comune deve restituire. In realtà, ad oggi, questo non lo possiamo dire, perché c'è un procedimento di revoca del finanziamento, non è definitivo, il Comune ritiene che non sia corretto, che non sia legittimo e quindi si sta opponendo a questo decreto di revoca e allora soltanto alla fine potremo dire se è fondato oppure no. Ma nel frattempo questo comporta comunque dei problemi a livello di documento finanziario del Comune? Cioè può creare problemi anche nel bilancio? Sicuramente, diventa un grande pensiero in più. Cioè c'è una voce nel bilancio, sicuramente. Non c'è dubbio, bisogna comunque considerare, facendo il bilancio, la previsione, eventualmente come si finanzi. Lei che notizia, che sensazione ha, quando si potrà chiarire questo? Ma nel più breve tempo possibile, perché in ogni caso se l'assessorato non dovesse tornare sui suoi passi, in ogni caso verrà fatta un'azione, verrà fatta ovviamente davanti a un giudice, la prima cosa che verrà chiesta è la sospensione del decreto di revoca. Ora non voglio fare il lavoro degli avvocati e dell'avvocato che se ne occuperà, però è evidente così cose che sono accadute anche a diversi comuni che poi hanno ottenuto la sospensione e il riconoscimento dell'illegittimità della revoca. Quindi non è un panorama, anche quella non è una cosa unica nella nostra città. Certo bisogna lavorare in questo senso, perché dover restituire 3 milioni di euro diventa un problema grande. Francamente sarebbe impossibile. Sì, sarebbe impossibile, diciamo che. Impossibile, no? Perché poi in qualche modo, eventualmente, sì, ma sarebbero problemi molto ma molto seri. Lei poco fa accennava alla questione ATI. Facciamo il punto sulla questione ATI. Ci sono comuni che hanno approvato questa bozza di statuto dell'azienda speciale consortile, comuni che non lo hanno fatto come Sciacca e che sono stati commissariati. Qual è la situazione anche qui, nonostante l'invito dei commissari a fare presto, nonostante l'oggettiva difficoltà di una gestione commissariale. La vediamo anche da fatti semplicissimi, cioè le manutenzioni idriche in città non vengono più effettuate, cioè noi abbiamo di nuovo una città con una perdita in ogni via. Che novità ci sono? Come... Noi abbiamo tempi condigentati, in questo caso, nel senso che noi abbiamo un termine ultimo. entro il 31 dicembre di quest'anno, non si sa quando, entro il 31 dicembre di quest'anno, ci sono degli atti che devono essere necessariamente fatti. L'aggiornamento del piano d'ambito, in realtà lo abbiamo quasi pronto, lo dico adesso da presidente dell'ATI, lo abbiamo pronto, l'aggiornamento del piano d'ambito, l'individuazione del nuovo gestore. Quindi questo nuovo gestore che abbiamo scelto tutti, e io mi permetto di dire, tutti abbiamo scelto, uniti e convintamente, la gestione pubblica dell'acqua pubblica con l'azienda speciale consortile. Perché ora pare che sia una cosa come se non se ne fosse parlato mai, ma io ricordo un consiglio comunale aperto in cui tutti questi consiglieri che oggi hanno perplessità, in realtà non hanno aperto bocca. Quando io ho detto sciacca cosa deve rappresentare all'ATI, quale forma di gestione deve portare avanti all'ATI, tutti, anzi io ero l'unica che avevo forse qualche all'inizio, qualche perplessità tra le seppia, per onestà, lo devo riconoscere. Lo abbiamo ricordato pure spesso, perché lei aveva detto io ho dei dubbi, rispetto proprio a una serie di conseguenze sul piano finanziario. Esattamente, in quell'occasione tutti convintamente, tutti si è scelta l'azienda speciale consortile. Adesso quella è la scelta e quella deve essere portata avanti. Questa è la forma, dobbiamo fare in modo che funzioni, non si può più tornare in via. Ma questo entro ora? A proposito le chiedo, ma quali conseguenze ci saranno poi sul piano economico? C'è il timore che molti prospettano e che alla fine le tariffe aumenteranno lo stesso, che alla fine i comuni saranno quelli a dover pareggiare il bilancio eventualmente? No, io non sono affatto convinta di questo, ma perché intanto... Quindi lei ha superato quelle che erano delle reticenze che comunque aveva. Perché comunque, diciamocelo, tutto il problema infrastrutturale, gli investimenti, nascono da finanziamenti. Sono coperti dai finanziamenti. E finanziamenti ce ne sono a Iosa. Finché non li perdiamo. Tanto è vero che dobbiamo fare tutto entro il 31 dicembre, altrimenti l'Europa non ci finanzia più a nulla. Quindi se noi riusciamo ad andare avanti così come siamo riusciti, a quel punto noi avremo i finanziamenti che ci permetteranno di fare tutto quello che infrastrutturalmente è necessario. Per quanto riguarda i costi di gestione, i costi di gestione vanno a tariffa. Allora quale può essere la preoccupazione che aumentino i costi di gestione, ma che aumentino rispetto a come ha gestito Girgenti Acque, onestamente è inverosimile. Ma poi a quel punto sarebbe un problema tutto nostro. Perché nel momento in cui noi, noi pubblico, il pubblico gestisce l'acqua pubblica, che lo faccia in maniera antieconomica e che diventi un costo enorme, vorrei capire come dovrebbe fare a fare una cosa del genere. Lo posso capire sul privato che i suoi interessi, peraltro sappiamo più o meno in ombra. E quindi quello è. Ma a quel punto non avrebbe più nessuna giustificazione. Quindi a me, devo dire, questo non preoccupa tantissimo. A me la cosa che preoccupava, che preoccupa un po' è il meccanismo di gestione. Cioè il fatto che ci sia un appesentimento. La gestione pubblica anche, no? Con tutti i rischi connessi. Esattamente. Questo è un po' perché forse subiscono la lentezza di questa burocrazia della gestione pubblica che è legata a tanti limiti, a tanti off-pay, anche giuridici. Quindi quello che a me veramente preoccupa è questo. Cioè ora questa macchina che viene messa su deve essere una macchina che non si può fermare ogni minuto perché c'è un problema, diciamo, della burocrazia degli enti pubblici. Ma anche lì poi bisogna fare in modo che funzioni. Quindi lei diceva entro dicembre va concluso tutto. Sì. E poi che cosa succede? Cioè quando questa nuova gestione a suo avviso partirà, potrà partire? Consideri che nella logica anche del commissario ad acta che è stato nominato e nei rapporti che abbiamo col Ministero, io domani pomeriggio sarò a Palermo perché abbiamo una riunione proprio con tutte le ati della Regione per fare un cronoprogramma strettissimo. Noi dovremmo avere un nuovo gestore ai primi mesi del 2021 a cui trasferire tutto quanto il nuovo gestore che possa gestire gli investimenti che devono arrivare. E su Sciacca ci sono tanti investimenti perché abbiamo noi l'investimento del secondo modulo del depuratore, l'investimento della rete fognaria, abbiamo un grande investimento sulla rete idrica di milioni e milioni di euro. Tutto questo è già in parte finanziato e pronto a partire. Per altra parte può essere finanziato. Veramente significa svoltare, cioè cambiare pagina. A quel punto sì. E adesso non si può andare avanti così, non possiamo più andare avanti così. Senti, in realtà non è stato solo il comune di Sciacca, altri comuni e questo testimonia che hanno quantomeno qualche dubbio da Agrigento ad altri, no? Agrigento era a fine mandato. Lì a Agrigento c'è stato un problema legato. Quindi lei ritiene che comunque altri consigli comunali invece possano, senza l'approvazione del commissario, procedere alla... Ma il commissario credo che approverà la prossima settimana lo statuto. Ma non è solo lo statuto. Quello che dicevo prima. Cosa ci siamo detti più volte? Intanto approviamo lo statuto e cristallizziamo la forma. Azienda speciale e consortile. Ma non era proprio possibile presentare questi documenti che chiedevano in modo tale anche da sviscerare la questione sotto ogni punto di vista, togliere tutti i dubbi. No, perché questo è dentro il piano d'ambito, sono i documenti che si stanno preparando, sono i documenti essenziali per fare partire l'azienda speciale e consortile. Ma questo piano economico-finanziario con la partecipazione del comune all'azienda speciale e consortile sarebbe arrivato in consiglio. Sarebbe arrivato in consiglio. Avrebbero potuto valutarlo. Adesso non lo possono fare più. Non lo possono fare più perché non c'è il tempo. Non lo possono fare. Non è possibile. Però pensare che poi lo faccia solo un commissario senza una responsabilità politica, ce lo vogliamo dire, senza una responsabilità politica, perché fin tanto che ci sono io e c'è la mia amministrazione, è evidente che me ne assumerò la responsabilità politica. Ma se non c'è più nessuno, per qualcuno forse è comodo. Ma comodo come che? Comodo come Schettino che dice sta affondando, io me ne vado, così intanto salvo me stessa. No, bisogna metterci la faccia fino in fondo. Se la scelta è la gestione pubblica dell'acqua, noi dobbiamo crederci, ma per crederci la faccia ce la dobbiamo mettere. io la faccia ce la metto e gliela continuo a mettere. Qualcuno ha ritenuto di non farlo e addirittura vorrebbe che Sciacca non avesse voce in capitolo. Cioè vorrebbe che questa scelta la prendesse un commissario. Ma stiamo scherzando? Senti, mettiamola così. se la situazione rimane per com'è ad oggi, lei avrà un anno e mezzo tranquilla, non ha più neanche a che fare con questo Consiglio Comunale continuamente litigioso e che ogni giorno le rimprovera qualche cosa. Vivrà tranquilla e serena. No, no, no. E però un po' non ne perde anche. Sì, no, no. E' brutto questa cosa, è brutta. Questo non è un bene, perché poi la critica aiuta, perché comunque è una dinamica normale, perché comunque è un organo impattante, un rapporto tra istituzioni, un controllo, di stimolo. E' un organo importante. Questo no, questo io non lo considero affatto. Io credo che sia un vulnus, una ferita per la rappresentatività effettivamente nella nostra città. Questo non lo penso assolutamente, ma veramente no. Però d'altro canto rispetto la scelta. Se loro hanno scelto di andare a casa, che lo facciano. Ma che adesso debbano provino, ripeto, illegittimamente, provino a far cadere nel baratro tutto, questo io non lo capisco. Ma diciamo, è umore sensone con tutti i filistei. Sì, ma alla fine di tutto questo gioco, se lo vogliamo mettere sul piano strettamente politico, del gioco della contrapposizione politica, la città come ne rimane? Pensiamo alla città. La città ne rimane agevolata in qualche modo. Sì, ma però le ripeto, non è solo il centro-destra o quell'opposizione che ci sta nelle cose. Questa animosità, questo estremismo, questi atti forti, sono arrivati dai esponenti della sua maggioranza, da un suo ex assessore. Paolo Mandracca è stato eletto con lei. Ma quella è una vendetta. Ha fatto parte di questo progetto politico, ha contribuito, ha vissuto tutta l'esperienza del primo anno, in realtà. Quella è una vendetta, quella è una vendetta personale. Io la vedo semplicemente come una vendetta. Anche su questa storia dell'azzeramento. Si parla sempre di questo azeramento, no? Mi si dice che io ho ucciso... Tutto inizioso è lì. Sì, che io ho ucciso la politica. Qualcuno in consiglio ha detto, dice, ah, ho ucciso la politica. Ma, insomma, anche lì bisognerebbe capire che cosa si intende per politica. Ma vogliamo... Cioè, posso dire veramente quello che penso? Ma qualcuno crede che quella mia scelta sia stata una scelta senza un motivo? C'è qualcuno. Adesso non ci conoscevamo. Non ci conosciamo ancora benissimo perché io sono troppo schiva, sono timida per certi versi e quindi io mi rendo conto che non mi si conosce veramente come sono, veramente non è a tutti... Lo capisco ed è colpa mia, solo colpa mia. Ma secondo qualcuno io sono così pazza che senza motivo dopo un anno a zero una giunta. Ma qualcuno può pensare a provare, a pensare, a dire ma forse qualche motivo l'avrà avuto. Io qualche motivo l'avrà avuto e mi permetto di dire non soltanto politico. Quindi se io ho a zero la giunta i miei motivi io li ho avuti per a zero per fare un atto così forte che comunque mi pregiudicava perché non è che comunque sono folle. le ha comportato una serie di problemi perché da quel momento lei ha cambiato una serie di assessori non ha avuto più una stabilità politica. Questo però bisognerebbe fare riflettere. Bisognerebbe fare riflettere perché... E forse era meglio scegliere il male e il minore allora... No, no. Ci sono delle cose sulle quali io non... A volte io dico sono io sbagliata perché io sono una persona troppo onesta troppo per bene troppo trasparente troppo per bene fondamentalmente. Ci sono delle cose sulle quali io non intendo transiggere e possiamo discutere io discuto che se ne dica a me piace confrontarmi perché mi metto in discussione continuamente. Ci sono però dei paletti che io non posso per rispetto di me stessa per rispetto di quello che io sto facendo e dello spirito che me lo fa fare che è soltanto di servizio solo ed esclusivamente mettendo in discussione tutto dalla famiglia alla mia professione alla mia carriera universitaria. io sto servendo questo paese di fronte a questo servizio su alcune cose io non transigo per cui se io ho fatto quella scelta verosimilmente quella scelta un motivo ce l'ha. Questo secondo me Lei ha detto non è stata solo una questione politica. Io lo chiedo poi lei è libera. No, io non dirò mai che cosa ha determinato quella scelta. Ma cosa c'è stato di così grave per determinare un aggeramento? Ecco, forse qualcuno potrebbe anche porsi il dubbio anziché continuare a parlare dell'azzeramento il sindaco preso da un socchietto cioè proprio sarei una masochista cioè farsi male da se stessa dice ho deciso che mi voglio fare male e allora anche quello silenzio silenzio Senta anche la componente Cusumano negli ultimi mesi è tornata insomma ad assumere una posizione un po' più forte nei confronti dell'amministrazione ha tenuto per un certo periodo una posizione così di attesa sembrava che addirittura che il dialogo fosse ripreso che si fosse in procinto di un nuovo ingresso di qualcuno di loro in giunta poi questo non è avvenuto sempre per colpa sua dicono perché lei non ha deciso ma lei è il sindaco quindi il sindaco è il parafulmine di tutto devo dire anche lì hanno fatto disfatto da sé adesso sono i più agguerriti lei ha sentito alcune dichiarazioni del consigliere Gianluca Guardino così come anche il senatore Cusumano che ha parlato di sottoscala insomma li avete bistrattati e maltrattati alla grande lei per prima sì certo perché evidentemente sarà così ma io devo dire cioè lei non è stata capace non solo di dialogare con l'opposizione ma anche con la sua maggioranza certo quindi evidentemente quello che hanno fatto gli assessori del gruppo verosimilmente non è stato adeguato questo vogliono dire loro hanno avuto degli esponenti importanti hanno avuto Filippo Bellanca come esponente assessore e vice sindaco è stata lei che l'ha estromesso la confonente Cusumano dice che è tutta colpa sua lei sostiene questo rientra in quella logica dell'azzeramento a cui dicevamo prima poi avevano due assessori l'avvocato Brunetto l'architetto segreto che hanno tanto lavorato che io ringrazio ringraziato e continuo a ringraziare perché hanno messo del tutto perché veramente hanno lavorato poi a un certo punto hanno ritenuto di essere in un sottoscala non me ne sono accorta che fossero nel sottoscala ad onor del vero non mi pare che sia così se dovesse essere così mi scuso mi sono scusata anche riguardo a questo perché io ho dato sempre apertura al gruppo perché ho dato apertura al gruppo? perché non c'è dubbio che sia un gruppo che a parte del progetto politico c'era soltanto una facciata in realtà ma che cosa intendono per apertura? che qualcuno debba decidere per il mio conto il mio nome l'apertura cos'è? che altri decidono e io seguo cos'è? anche le famose rioni di maggioranza vi eravate dati a un certo punto un appuntamento settimanale poi anche questo è saltato ora non siamo qui magari c'è stata ci sono state cose ben più serie ben più gravi però torno sempre al discorso queste incapacità di dialogare perché non è che è finita ed è limitata soltanto alla componente Cusumano anche da altri consiglieri ogni tanto vengono delle frecciatine mi riferisco al consigliere Sabella come anche ad altri dico lei continua ad avere anche all'interno della maggioranza diversi atteggiamenti diciamo non proprio mi dispiace è vero le riunioni vengono calendarizzate poi molte volte per gli impegni di ciascuno non si è tutti presenti io dico sempre sapete dove trovarmi perché comunque lavoro tutto il giorno quindi per quello che mi riguarda mi scuso perché effettivamente mi scuso lo dicevo prima io non sono brava non sono brava perché dovrei telefonare dire coinvolgere probabilmente cosa che invece devo dire non sono brava perché sono una persona abituata ad essere molto concreta e allora io faccio le cose mi ammazzo la vita detto in termini non proprio eleganti per fare le cose ed effettivamente non tengo non riconosco non sono brava a tenere i rapporti cosa che invece ho capito che è politicamente essenziale questo l'ho capito benissimo e mi dispiace io faccio moltissimo e io provo anche adesso io provo costantemente a recuperare perché anche con l'opposizione che dice che io sono sorda ma in realtà io li ho convocati a un certo punto di questa storia li ho coinvocati li ho provati a coinvolgerli perché ho detto vero è vediamo sediamoci fatemi capire il tentativo non è andato noi è andato bene sappiamo tutti che c'erano l'Unioni sì all'inizio poi qualcuno cominciò a disertare ed è andata così e lì però anche lì mi posso permettere anche lì forse la verità è sempre nel mezzo io non sono brava probabilmente non c'era tutta questa apertura non mi siete capiti non ci siamo capiti probabilmente non ci siamo capiti capita siamo ormai in conclusione diciamo che il tempo è passato avrei avuto il piacere di affrontare tante altre cose magari poi ci rivedremo io intanto la ringrazio per aver trovato nell'arco della giornata anche la disponibilità a partecipare alla trasmissione grazie anche a voi per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana a partecipare a partecipare a partecipare